Purtroppo il secondo dramma lungo il torrente Arzilla nel giro di due anni, proprio mi sono svegliato e andando in città ho notato che una capretta purtroppo è stata divorata un'altra volta dai lupi. Questa volta però dentro la recensione, recensione che ho fatto appunto dopo la scomparsa della prima capra di due anni fa. L'altra volta erano sei lupi, questa volta non so, so solo che la poverina hanno prima rotto il filo di recensione dove teneva il cancello, poi sono entrati e l'hanno tirata fuori. Ma nel tirarla fuori si è agganciato le corna dell'inferiata, l'ha storta completamente, quindi pensate che forse hanno avuto quei lupi per tirarla fuori, l'hanno sventrata dietro, poi adesso vedrete. Mi dispiace perché erano tutti animali che tenono qui per i ragazzini della scuola Poderino che venivano a fare le passeggiate e anche la domenica mamme e bambini venivano qua a vedere. È un altro dramma che l'altra volta ha pianto mezza trave, questa volta è uguale, mi dispiace un bel po'. Poi lo posso dimostrare anche questi giovani che anche oggi sono venuti e sono rimasti molto male. Stamattina presto, stanotte, è stata appunto sbranata una capretta e adesso sono capitato qua per vedere la situazione e ci sono rimasto molto male, mi dispiace molto.